Oggi ci sarà questo incontro nell'ambito del quale utilizzando una grande professionalità e una grande esperienza chiederò al professor Sgarbi cosa ne pensa, di alcune idee e soprattutto gli chiederò le sue idee per un rilancio del sistema cultura della città che come è noto è anche il sistema turismo e come è noto che è un grande indotto. Quindi un nome importante, hai pensato veramente a un nome certamente di prestigio anche Sindaco? Assolutamente sì, c'è da dire che naturalmente devo ringraziare il dottor Brenna perché è stato lui anche il presupposto di questo incontro che posso dire era già avvenuto in passato e poi sentiremo però altri pezzi importanti della storia di questa città abbiamo per esempio la possibilità e spero che la accolga di fare un confronto con Sergio Gaddi e poi per esempio abbiamo anche all'interno del sistema consiglio persone che possono aiutarci molto Claudio Borghi è uno di questi. Quindi le mostre dovrebbero tornare sostanzialmente, grandi mostre come... Ma uno dei temi sicuramente è questo, vedremo che cosa ne pensa il professor Garbi e vedremo cosa ne pensano gli altri c'è la necessità di fare il punto anche da questo punto di vista. Grazie. Grazie.